Buongiorno a tutti sono Alberto Battistella e sono la terza generazione della famiglia Battistella che opera nel settore dell'arredamento dal lontano 1953. L'azienda è stata fondata da mio nonno Alfredo nel 1953 che spinto dalla passione per la lavorazione del legno è iniziato in un piccolo laboratorio artigianale dopo aver preso lezioni da un maestro d'ascia della zona. Oggi il gruppo come dicevo in precedenza è composto da Battistella Company che è diventato il nome del gruppo che dirige e controlla le altre aziende, Nova Mobili che coincide anche con uno dei nostri progetti che è dedicato alla produzione di un arredo contemporaneo che va a interpretare vari stili di vita del vivere contemporaneo. Il mercato di riferimento diciamo è quello italiano, il gruppo in totale fattura circa 90 milioni di euro e il 75% del fatturato è sbilanciato in Italia. La caratteristica fondamentale che accomuna tutti e tre i nostri brand è la nostra azienda è sicuramente quella della modularità, della progettazione e della flessibilità. Siamo un'azienda altamente tecnologica, altamente industrializzata però nello stesso tempo abbiamo all'interno anche una grande tradizione artigianale per appunto andare incontro alle esigenze in termini di personalizzazione. Abbiamo una produzione che si basa su una produzione a just in time, una a stock quindi di alta produzione e in mezzo una produzione flessibile per ottenere anche i piccoli lotti. Siamo l'unica azienda in Italia che utilizza una vernice monocomponente UV 100% a base d'acqua che riduce di circa il 95% le emissioni nell'atmosfera. Pensiamo sia fondamentale quindi dalla nostra produzione dove passando per gli stabilimenti non si percepisce alcuna inazione di sostanze chimiche, infatti i nostri dipendenti non utilizzano mascherine, fino al consumatore finale. Quindi tutto il ciclo produttivo è basato su una ecosostenibilità ambientale. In generale gran parte dei nostri utili li rinvestiamo appunto in investimenti in ricerca e sviluppo e soprattutto investimenti tecnologici. Parallelamente per un'esigenza di portare internamente il nostro principale prodotto in Nova Mobili che sarebbe il laccato, investire anche in un nuovo impianto di laccatura, CEFLA, che sta lavorando parallelamente a un impianto già esistente, sempre della stessa ditta, per diventare sempre più un'azienda di laccato, per aumentare la produttività ma soprattutto per gestire totalmente la produzione e la qualità in azienda. Per noi è fondamentale oltre che l'investimento immediato, soprattutto il post, quindi tutto quello che è il servizio legato all'assistenza e legato agli sviluppi che può avere il macchinario nel corso del tempo. Ovviamente lavorando insieme a CEFLA abbiamo potuto anche instaurare un bellissimo rapporto insieme alle persone in stretto contatto con noi e si è creata una reciproca intesa. Questo ci consente di lavorare ancora meglio sapendo che dietro c'è una struttura solida con cui possiamo avere una lunga relazione nel corso del tempo. Quindi perché scegliere CEFLA? La cosa principale è quello che ha rispercato un po' la nostra mentalità. Non partiamo da un progetto già preconfezionato ma è una sorta, io la chiamo sartoria della progettazione perché riescono come noi offriamo un servizio di personalizzazione anche loro su impianti così sofisticati e altamente tecnologici offrono un progetto ad hoc e su misura per il cliente. Quindi capendo le caratteristiche dell'azienda, capendo l'assetto produttivo per andare a ritagliare un qualcosa che possa essere l'abito su misura per noi e per il cliente finale.